Buon pomeriggio a tutti, grazie di essere così numerosi e non vorrei aspettare ancora oltre per iniziare, siamo in attesa di avere notizie dell'arrivo del Ministro e abbiamo comunque un po' di cose da iniziare a portare e condividere, quindi direi che possiamo partire con questo. Io innanzitutto a nome di tutta la nostra amministrazione saluto l'onorevole Claudia Porchietto e il consigliere regionale Paolo Ruzzola e appunto il Ministro quando sarà possibile e saluto tutti voi, evidentemente mi scuserete se non faccio l'elenco di tutti i comuni presenti ma siete molti e anche le imprese del territorio che sono legate alla materia più tecnologica, più precisa in questo senso. Diciamo che il nostro territorio, io ho un saluto, un'introduzione molto breve perché poi questo è un incontro di contenuti, è un incontro anche per entrare di più negli aspetti pratici e gestionali e di sviluppo delle comunità energetiche. Questo territorio non è stato inerte se posso dire così rispetto a questa tematica, dico il canavese in senso lato perché ci sono tanti e tanti comuni in particolare che si sono interessati, come minimo si sono documentati, hanno fatto atti di indirizzo, hanno frequentato corsi, hanno avviato progetti e strada facendo hanno un po' assestato il tiro per così dire proprio perché la disciplina dal punto di vista più amministrativo per quello che ci riguarda come amministratori pubblici è una disciplina che si è andata completando solo adesso, cioè il tema dell'incontro è il cosiddetto decreto CER che è diventato pienamente operativo mi pare il 24 gennaio, quindi a meno di due mesi di vita nella sua piena operatività. Però prima di questo momento e quindi adesso che ci sono le regole cerchiamo di capire in che cosa consistono, come funzionano, come si può ragionare meglio, però prima di questo momento sono stati fatti più progetti. Uno, due riguardano il nostro comune che ha avviato sia un progetto per una CER solo come comune di Vidraco e un altro più strutturato che è condiviso con altri quattro comuni della zona, l'Imitrofi, il comune di Vistrorio, il comune di Siglio, il comune di Baldissero Canavese e di Torre Canavese. In questo progetto, come altri progetti simili che sono nati nel territorio, ci segue la società di consulenza Boetos, dopo inviterò uno dei loro esperti a fare anche solo un accenno che credo che possa essere utile per comprendere anche come questo approccio della pubblica amministrazione va nella direzione di costruire dei percorsi condivisi e di territorio come ha senso che sia. Mi limito a questo, do la parola al consigliere Paolo Ruzzola. Per introdurlo mi scuso con voi per i disagi che avete incontrato raggiungendovi. Vi dico qual è il nesso tra Paolo Ruzzola e i disagi che avete incontrato. Perché c'è un nesso importante, nel senso che la frana che avete trovato, cioè il semaforo che avete trovato provenendo da Vistrorio, testimonia anche alle autorità nazionali oltre che regionali che vivere in un territorio collinare montano comporta che il dissesto idrogeologico è un fenomeno reale e ci sorprende ogni volta che le piogge sono più intense e più importanti. Non è possibile accedere proveniendo da Baldissero perché la SP61 è finalmente oggetto di un importante lavoro di messa in sicurezza. Un lavoro ha iniziato circa dieci anni almeno di gestazione e ce l'ha avuto. Ha impegnato moltissimo la società di escavazioni Nuova Cives, qui c'è l'amministratore delegato Franco Ferrero della Nuova Cives appunto, che è una società che si è prestata a collaborare con questo progetto creando lo spazio perché la strada potesse essere allargata. In realtà questo ovviamente non era sufficiente, è stato necessario il Matteo Ferrero, mi scuso, Franco il fratello, sono tre fratelli che gestiscono l'azienda. Mi è arrivato telepaticamente la saetta. Dicevo oltre a creare la strada poi però bisognava fare tutte le opere, sono opere di consolidamento, di messa in sicurezza, quindi anche lì c'è stata una gestazione lunga e il collegamento con Paolo della Regione perché l'opera che viene realizzata dalla città metropolitana con cui c'è un'ottima collaborazione, opera che è condivisa e sentita anche con gli amministratori della Val Chiusella e del Comune di Val di Sero, ha visto fare la differenza alla Regione Piemonte e quindi l'interessamento di Paolo è stato preziosissimo in questo senso perché dei quasi un milione di euro che costa tutto l'intervento, 800 mila sono messi della Regione, quindi ecco questo era un po' il racconto per arrivare a questo punto. Quindi grazie Paolo e ti do subito la parola. Grazie Sindaco, grazie a tutti voi per essere qui questa sera, saluto ognuno di voi, tanti amici, tanti amministratori. Innanzitutto partirei semplicemente dicendo che siamo qui perché come lo abbiamo promesso quando siamo in campagna elettorale, le nostre promesse erano quelle di non dimenticarci il giorno dopo le elezioni dei nostri territori, dei nostri cittadini e quindi lo facciamo regolarmente, non è la prima volta che siamo qui, lo siamo regolarmente e il motivo per cui anche il Ministro che è in volo e quindi ci raggiungerà, vi pronuncio che sperava di poter riuscire a prendere il volo precedente, quindi poter essere puntuale non gli è stato possibile, però sappiamo che in volo e appena a terra ci dirà come potrà raggiungerci. Fatta questa premessa, devo dire che per la strada, per la prima volta uno può essere, sono contento che ci sia un disagio sul territorio perché come diceva il Sindaco, stiamo parlando di un tratto di strada che purtroppo ha visto anche degli incidenti mortali e quindi era un tratto di strada che aveva assolutamente la necessità di essere una priorità sul territorio, devo dire che ho percepito le prime esigenze da consigliere della città metropolitana e a scadenza del mandato da consigliere regionale finalmente vediamo i cantieri. Ma questi sono i tempi della pubblica amministrazione ma l'importante, io dico sempre, è crederci e arrivare al risultato. Quindi è stato importante che la città metropolitana lo mettesse fra le priorità e all'interno dei fondi che noi trasferiamo ogni anno, effettivamente su una legge che mi ha visto promotore in questo emendamento che è quello del trasferimento del 50% delle risorse che arrivano dalle grandi derivazioni per i comuni montani per la manutenzione delle strade provinciali, appunto in questi comuni in modo particolare anche sulle strade bianche e quindi come dire il concatenarsi di tutte queste opportunità ha reso possibile oggi avviare questi lavori che sono seguiti e appaltati dalla città metropolitana che credo che c'è anche qui Mazza e poco tempo fa, credo una settimana 15 giorni fa insomma in qualche modo avete tagliato il nastro dell'avvio dei lavori e quindi l'impegno è totale e mi fa piacere quando si può andare sui territori e vedere che l'intero sistema territoriale, il comune, la provincia, oggi città metropolitana, regione fanno sistema per dare le risposte quelle risposte di cui abbiamo bisogno. Altra premessa perché non voglio dimenticarlo vi porto i saluti del collega ed amico Mauro Fava che non riesce ad essere qui questa sera perché anche lui ovviamente è sul territorio ma è impegnato su un altro evento e quindi mi ha pregato di portare i suoi saluti, lo faccio con molto piacere. Poi in modo particolare questa sera siamo qui per parlare delle comunità energetiche, lo faccio con molto piacere perché partendo dalle parole del sindaco che dice non solo un comune che è stato un territorio inerte ma io dico è stato un territorio estremamente propositivo e quindi si è avviato in questa vicenda fin dall'inizio quindi ha sposato l'idea anche perché parlare di comunità energetica ormai ne parlano tutti, tutti i giorni sulla bocca di tutti si parla di comunità energetiche molte volte senza sapere esattamente di cosa si sta parlando perché dietro l'idea delle comunità energetiche c'è come dire un cambio culturale di approccio all'energia alternativa. In effetti e poi sarà Claudia e il ministro che entreranno nei dettagli non è più un finanziamento molto come dire snello veloce e indirizzato all'energia prodotta con fonti alternative ma va a premiare quell'energia che viene prodotta e consumata istantaneamente quindi cambia l'approccio culturale tu produci da fonti alternative ma contemporaneamente ti devi preoccupare e occupare di consumarla quindi perché effettivamente sappiamo che hanno come dire dei limiti oggettivi la produzione banalmente i pannelli fotovoltaici producono durante il giorno quando abbiamo il sole ed è come dire l'approccio cui stiamo avvicinando è quello di dire nel momento in cui produco consumo quindi banalmente se fino a qualche anno fa si diceva che la lavastoviglia piuttosto che la lavatrice la dovevamo accendere di notte perché di notte c'era un esubero di produzione di energia elettrica e l'energia elettrica costava in meno oggi soprattutto se fai parte di una comunità energetica o sei pannelli a casa tua tendenzialmente il miglior beneficio ce l'hai se consumi nel momento in cui produci ovviamente possiamo ringraziare il nostro ministro che seppur con molta fatica e con tempi biblici ma ha portato a casa il decreto perché credo che l'Europa ci abbia messo un anno, un anno e mezzo un anno e mezzo a darci il via libera, questi sono i tempi però adesso finalmente abbiamo il decreto motivo per cui non siamo andati sui territori prima era perché prima fino a due mesi fa saremmo andati sui territori sì a parlarne ma parlarne in modo generico senza avere le giuste informazioni che poi servono al cittadino, all'imprenditore, all'ente locale per sapere come muoversi, come dirigersi per portare a casa il beneficio che è un beneficio complessivo, è un beneficio economico ma stiamo parlando anche di benefici ambientali, stiamo parlando di benefici sociali perché questo è l'obiettivo delle CER, le CER tengono insieme più elementi e cercano di portare a casa un obiettivo ampio. Direi che abbiamo la fortuna questa sera di avere anche qui Claudia Porchietto molti di voi la conoscono per chi non la conosce ovviamente lei da anni è un libero professionista commercialista e consulente aziendale quindi conosce molto bene la macchina dalla parte delle imprese già presidente di API quindi una visione generale e lì vi racconterà anche lei perché da oltre 20 anni proprio l'API aveva messo in piedi un consorzio che si chiama Consorzio d'Energia e Territorio che aveva fatto il sistema per fare un acquisto come dire come si facevano oggi di centrale unica d'acquisto per avere dei benefici per i propri consorziati. Poi consigliere assessore regionale, parlamentare e quindi ha la giusta visione completa a 360 gradi per dare come dire tutte le risposte in questa materia soprattutto da due anni, due anni e mezzo questa parte ha seguito in modo puntuale l'evolversi dei decreti quindi della parte legislativa per essere oggi in grado di rispondere alle domande dei territori di saper dire probabilmente quale è la miglior formula con cui predisporre le comunità energetiche quindi la forma giuridica con cui istituirle, come crearle e soprattutto dopo anche come gestirle perché chi pensa che facilmente sia metto su i pannelli fotovoltaici ancorché nei comuni poi sotto i 5.000 abitanti ci siano grossi incentivi perché si può usufruire anche del 40% di incentivo a fondo perduto su un investimento fatto ma poi c'è anche l'altra parte che incentiva i kilowatt prodotti consumati contemporaneamente anche lì bisogna fare un'analisi puntuale per vedere se è meglio prendere il contributo del 40% e poi avere un contributo ridotto dopo o per dire rinunciare a quello ma avere il contributo pieno sui kilowatt prodotti consumati contemporaneamente effettivamente è un cambio culturale pian pianino si è passati dalle cabine secondarie che parlavano di un territorio molto piccolo per passare poi alle cabine primarie che già vanno su un territorio molto più vasto normalmente comprendono diversi comuni ma ciò non toglie che c'è l'opportunità ormai di farlo in area vasta addirittura parlando del nord Italia quindi abbiamo l'opportunità di bilanciare la produzione e il consumo con un territorio importante perché l'obiettivo è quello bilanciare la produzione con il consumo quindi l'occasione di questa sera era qua per presentare come dire un quadro completo adesso che abbiamo tutti gli elementi compreso l'ultimo decreto e quindi con soprattutto gli amministratori locali che saranno e sono su questo una parte centrale una parte importante perché senza l'amministrazione locale che in qualche modo essendo pubblico garantisce un pochino l'operazione ed è più facile che possa trovare il consumatore cioè il cittadino che aderisce sapendo che è garantito dalla presenza dell'amministrazione comunale che può e comunque sempre essere un punto di riferimento io direi che ho detto tutto lascerei la parola a te Claudia per entrare nel merito e poi lasciare soprattutto spazio alle domande che penso non mancheranno Buonasera a tutti, grazie io faccio le premesse prima che poi mi tiri le orecchie al ministro perché solitamente mi ritrovo a parlare prima del ministro Picchetto che poi giustamente tira le fila rispetto ad una tematica che come ha detto correttamente Paolo ci è venuto molto tempo ma soprattutto non tanto perché non fosse il Mase pronto ma perché non era pronta la comunità internazionale e la comunità europea una breve e proprio brevissima valutazione su questo un anno e mezzo di attesa dell'autorizzazione europea finché non fossero definiti aiuti di Stato nasce dal fatto che noi siamo il primo Paese che presenta un progetto così articolato con anche dei fondi del PNRR con delle tariffe incentivanti quindi l'Europa voleva essere certa che l'Italia non stesse camuffando aiuti di Stato attraverso questo progetto delle comunità energetiche in realtà oggi almeno altri due Paesi una è la Francia l'altra è la Spagna mentre la Germania è partita con un progetto molto più piccolo molto più semplificato ma che non sta partendo sul tema delle comunità energetiche fa sì che oggi sia veramente l'Italia a fare scuola da questo punto di vista quindi c'è voluto un po' più di tempo però è un progetto costruito a parer nostro bene che può dare a parer mio da questo punto di vista grande soddisfazione soprattutto sui comuni piccoli e vado al dunque parlando prima col sindaco che ringrazio dell'ospitalità e con gli amici sindaci con cui ho avuto modo di chiacchierare un attimo se non ho capito male su questo territorio ci sono già comunque anche delle forme avanzate di lavoro e di progetti sul tema delle comunità energetiche e il fatto di aver messo al centro del progetto l'iniziativa pubblica io mi permetto di dire che è assolutamente molto interessante per quale motivo? perché in realtà la forma giuridica che si può dare alla comunità energetica è libera si può partire dall'associazione non riconosciuta ad arrivare anche alla società per azioni però c'è un tema la comunità energetica è vincente se si riesce a avere produttori consumatori, produttori, consumatori che insieme costruiscono il progetto e quindi diventa complicato riuscire a coinvolgere la cittadinanza in una chair completamente privata fatta da imprese ve lo dico io che arrivo tra l'altro dal sistema delle imprese e che per prime hanno sollecitato questa iniziativa dal punto di vista dell'opportunità sia di investimento sia di tariffe agevolate per quanto riguarda il prezzo dell'energia ma che si sono immediatamente resi conto che se non si fosse coinvolto l'amministratore pubblico l'amministrazione pubblica difficilmente si sarebbe riuscito a coinvolgere i cittadini che anche soltanto attraverso il conferimento del loro pod della casa aiutavano a creare un sistema di comunità e quindi una condivisione di quella che è l'utilizzo la produzione e l'utilizzo dell'energia in loco io non voglio tra l'altro annoiarvi e quindi se so che voi siete abbastanza diciamo ormai addentro alla materia quindi lascio e tralascio decreti contro decreti ci sono soltanto alcuni passaggi alcune novità che ritengo siano molto importanti rispetto al regolamento attuativo che finalmente è arrivato e che diciamo manca ancora di una piccola parte che potrebbe interessarvi in particolar modo di cui parleremo però ci tenevo a sottolineare come la cosa importante e la missione delle comunità energetiche è avere veramente la capacità di costruire un equilibrio di produzione e di consumo su un'area limitata o delimitata che è solitamente la cabina primaria che permette a questo punto al territorio di avere dei benefit per 20 anni perché vengono fissate le cosiddette tariffe incentivanti quindi in realtà per 20 anni una comunità energetica che è in grado di equilibrare la produzione e il consumo di energia riesce ad ottenere dei vantaggi sia per coloro i quali mettono a disposizione della comunità energetica gli impianti di produzione dell'energia in particolare chiaramente energia fotovoltaica ma poi sappiate che si sta ragionando per coinvolgere e condividere il tema delle tariffe incentivanti anche laddove sono altre le forme di produzione di energia parlo di idroelettrico non a caso perché siamo comunque una regione che sul tema dell'idroelettrico meno dell'eolico offshore o inshore come si suol dire rispetto a altre regioni però comunque ha una produzione di energia da idroelettrico estremamente importante ma perché nell'immediato non si è partiti su tutte quelle che erano le fonti di energie rinnovabili perché c'è un problema di un contenzioso aperto in questo momento con l'Europa proprio sulle concessioni idroelettriche quindi per non aprire un'altra diciamo porta che poi avrebbe portato a rallentare l'avvio dell'autorizzazione del decreto per poter partire con le comunità energetiche si è dato il via in particolare al tema degli impianti fotovoltaici per riuscire a far partire immediatamente il progetto comunità due passaggi importanti temporalmente ricordiamoci che per i comuni sotto i 5.000 abitanti avendo questa opportunità di usufruire di un contributo a fondo perduto fino al 40% per gli impianti fotovoltaici di nuova installazione i tempi sono in qualche modo contingentati perché si aprirà fra poche settimane lo sportello GSE per presentare le domande relative al contributo a fondo perduto per poter immediatamente presentare la domanda per l'installazione di un impianto fotovoltaico occorrerà già essere aderenti ad una comunità energetica tale comunità energetica dovrà essere una comunità validamente regolarmente costituita con uno statuto che avrà già recepito le ultime modifiche che sono state inserite nei regolamenti attuativi del decreto che è stato emesso dal MASE non è che lo sportello si chiude dopo due giorni quindi i tempi assolutamente ci sono ma è chiaro che mentre prima fino all'ultimo regolamento attuativo e alle interpretazioni del decreto sembrava che potessero rientrare anche gli impianti che erano stati allacciati dopo il dicembre del 2021 invece con le nuove informazioni e le nuove interpretazioni del decreto ormai pubblicate da qualche settimana si è chiarito che stiamo parlando solo di impianti che vengono installati successivamente alla costituzione delle CER quindi questo è un passaggio non da poco perché comunque con questo il MASE ha voluto dare un segnale anche di veramente nuovi impianti e nuove opportunità sui territori e il fatto che abbia scelto comunque di dare una priorità ai comuni sotto i 5.000 abitanti nasce anche dal fatto che si sta cercando di costruire un percorso e un'agevolazione per quei comuni che chiaramente sono più piccoli sono in zone meno agiate rispetto ai collegamenti lo vediamo qua quindi c'è anche una opportunità che viene data laddove le comunità hanno veramente un senso di comunità non soltanto energetica ma di costruzione di un progetto io credo che questo sia un tema estremamente importante e significativo attenzione perché i tempi non sono così dilatati perché le domande per ottenere il contributo fino al 40% dovranno essere presentate entro il 31 marzo del 2025 sembra lontano perché è un anno ma tenuto conto anche dei tempi di risposta che avrà il GSE se ci sono delle private o delle imprese o le amministrazioni che vogliono fare questo tipo di investimento tenete in considerazione che i tempi non sono così dilatati secondo tema siccome si tratta di risorse del PNRR vanno spese entro il 2026 perché i fondi PNRR hanno comunque anche una temporalità di utilizzo che è appunto quella del fine 2026 ultimo passaggio che mi permetto di sottolineare perché non è anche qui una cosa di poco conto occhio alla saturazione delle cabine primarie perché questo è un altro tema è un altro tema che abbiamo già sottolineato anche ad Arera al GSE e al MASE abbiamo poi vi dico cioè non è che abbiamo nel senso che stiamo collaborando fattivamente perché fortunatamente avendo un po' di cappelli supportiamo il ministro supportiamo il ministero ma abbiamo dall'altra parte la regione il territorio le associazioni datoriali che dialogano comunque col sistema c'è un tema delicato che è quello delle cabine primarie molte delle cabine primarie hanno un livello di saturazione preoccupante ovvero rischiamo di fare degli impianti e nel momento in cui chiediamo di allacciarli alla cabina primaria ci rispondono che li allaccieremo magari fra 5 o 6 anni quindi siccome ad oggi i contributi diciamo del 40% del PNRR vengono erogati ad allacciamento alla cabina primaria dell'impianto bisogna solo fare attenzione per verificare preventivamente con i propri professionisti che fatto l'impianto si possa allacciare in tempi ragionevolmente rapidi e su questo tema stiamo lavorando col ministero perché la saturazione delle cabine è molto spesso una saturazione virtuale e non effettiva ovvero ci sono richieste di autorizzazioni fatte negli anni precedenti che poi non sono state seguite dalla costruzione dell'impianto e dall'allacciamento ma che hanno impegnato la potenza della cabina quindi molto spesso ci ritroviamo se andiamo a vedere la mappatura delle cabine primarie un bel rosso che vuol dire cabina satura poi in realtà scopriamo che in realtà avremo ancora una potenza significativa che potremmo usufruirne ma ci sono delle autorizzazioni richieste negli anni precedenti che poi vengono sempre reiterate che impegnano quella potenza anche su questo col ministro ne abbiamo parlato si sta lavorando per fare nelle prossime settimane o in fase di emendamenti in parlamento o con un regolamento attuativo da parte del Mase un'iniziativa tale per cui si danno dei tempi ristretti che ne so sto inventando non lo so ancora cosa metterà il ministero però per dire vi diamo tempo 60 giorni ad avviare l'impianto per cui avete chiesto l'autorizzazione all'allacciamento nel caso in cui voi non lo facciate entro tempi rapidi decade la richiesta autorizzativa che avevate fatto magari due o tre anni prima perché in questo modo liberiamo comunque delle cabine primarie quindi mi permetto di sottolinearlo questo perché è sicuramente estremamente importante parlando prima col sindaco mi ha fatto presente che una parte del territorio il territorio comunque sta già lavorando su aggregazioni di comuni su progetti che vedono al centro l'amministrazione io non dovrei dirlo ma sono molto positiva nel senso che a parer mio il successo di una comunità energetica nasce dalla capacità di mettere al centro l'amministrazione locale l'amministrazione comunale perché diventa un soggetto garante anche della serietà del progetto e io ho delle esperienze raccontavo prima al sindaco anche sia sulla regione Piemonte sia su altre regioni su comuni magari un po' più grandi che hanno immediatamente fatto la scelta di andare sulla persona giuridica della fondazione di partecipazione che vede così come nelle associazioni riconosciute una governance della comunità energetica molto legata all'amministrazione comunale perché questo uno perché è chiaro che ci sono tutti di iter autorizzativi anche per valutare dove installare gli impianti che se si ha al fianco il comune diventa anche più semplice e più veloce tra virgolette da fare sempre chiaramente nei limiti autorizzativi ma ci sono comunque dei processi semplificati due perché comunque molto spesso ci sono anche delle amministrazioni comunali che hanno spazi di bilancio per fare magari parzialmente finanziato un investimento in un impianto fotovoltaico ricordo che il contributo del 40% lo può richiedere chiaramente anche l'amministrazione comunale non soltanto i cittadini o le imprese tre perché siccome è fondamentale mettere insieme il pubblico il privato l'impresa ma anche il cittadino mi diventa difficile immaginare che tre imprese che decidono di mettersi insieme per fare una comunità energetica vadano a suonare i campanelli alla signora Maria con tutto il rispetto chiedendole di partecipare ad una comunità energetica di cui il garante non è nessuno allora è chiaro che avere invece l'amministrazione comunale che fa da perno su un progetto di questo genere e anche garanzia nei confronti della cittadinanza non da ultimo la normativa prevede comunque che ci sia una parte della tariffa incentivante destinata e dedicata a come posso definirli a soggetti che operano e hanno un'utilità sociale o che comunque rientrano nell'alveo della pubblica amministrazione e la pubblica amministrazione può anche decidere con la quota parte che è dedicata comunque a non remunerare l'investimento delle imprese ma ha una funzione pubblica di intervenire anche laddove c'è povertà energetica quindi laddove ci sono famiglie che sono in difficoltà e che pertanto possono essere prese in carico anche dalla comunità energetica per quanto riguarda i costi dell'energia quindi io credo che questo possa essere un sistema estremamente interessante in particolare per i comuni come dicevo piccoli sapendo tra l'altro che il sistema delle aggregazioni tra comuni a parer mio non è soltanto una opportunità a parer mio è estremamente importante perché ricordiamoci che poi i conteggi sulla energia prodotta e consumata si fanno sotto la cabina primaria ma nulla vieta che il sistema invece della gestione di una comunità energetica che non è una passeggiata e io ci terrei a sottolinearlo perché un conto è costituire la comunità energetica si va da un notaio si fa una scrittura privata nel modello più semplificato ma si fa in fretta il tema poi è avere invece le competenze per gestire cioè per fare la gestione dei flussi in entrata dei flussi in uscita della come posso definirla dell'equilibrio tra produzione e consumo e attenzione è chiaro che la produzione energetica attraverso gli impianti che parteciperanno alla CER non sarà mai sufficiente a rispondere a tutta la a tutto il fabbisogno energetico degli aderenti ad una comunità quindi è vero che la norma prevede che coloro i quali partecipano alla comunità energetica essendoci libertà di entrata e libertà di uscita dalla CER possono tranquillamente continuare a comprare il loro fabbisogno energetico che cede quello a cui può rispondere la produzione degli impianti all'interno della CER dove vogliono ma è chiaro che all'interno della CER è anche interessante creare un'aggregazione di consumatori che si possa presentare sul mercato energetico per comprare quella parte di energia che non è ancora prodotta all'interno della CER per ottenere i migliori prezzi sia che si tratti di imprese sia che si tratti di utenze domestiche per poter far questo occorre che all'interno della comunità energetica ci siano comunque i profili tecnici adatti a gestire le profilazioni degli impegni energetici e delle produzioni energetiche perché se fino come diceva giustamente Paolo Ruzzola se fino all'altro ieri ci insegnavano che dovevamo accendere la lavatrice di notte perché costava di meno da domani mattina in realtà noi dobbiamo essere bravi a equilibrare produzione e consumi per far sì che l'equilibrio sia quantomeno superiore al 75% per ottenere il massimo delle tariffe incentivanti che vengono riconosciute su questa comunità energetica quindi ci vogliono profili tecnici che operano in tal senso quindi io credo ma penso che voi l'abbiate valutato che sia opportuno che ci sia sì una regia ed una cabina di regia pubblica ma poi che ci sia anche comunque l'intervento di un privato che opera per la gestione di queste profilazioni a meno che non ci sia un comune capofila che ha le competenze tecniche interne che possa fare questa profilazione adesso io mi sono diciamo sono andata un po' come posso dire random per fare alcune valutazioni faccio ancora un passaggio rispetto a quello che ho così diciamo detto molto velocemente che è il tema del fatto che abbiamo da una parte i contributi a fondo perduto e dall'altra parte la tariffa incentivante anche qui adesso la norma è chiara non si possono sommare completamente i due tipi di contributi ma possono essere mixati quindi così come chi fa l'impianto chi si intesta l'impianto può ottenere un contributo fino al 40% del valore dell'impianto e anche qua poi ci sono chiaramente dei tetti massimi di spesa così dall'altra parte puoi tenere una tariffa incentivante fino ad un tetto quindi coloro i quali sono produttori e consumatori è chiaro che opereranno in un regime mixato quindi è presumibile che nel caso in cui siano soltanto produttori e non consumatori privilegino a questo punto la tariffa incentivante laddove sono produttori e consumatori sia interessante fare un mix tra il contributo a fondo perduto e la tariffa incentivante è chiaro che ognuno deve fare un proprio business plan per valutare qual è diciamo il beneficio economico massimo che può ottenere dopodiché io sono molto diretta è chiaro che nessuno ma che sia un consumatore finale che sia un produttore che sia diciamo anche la funzione pubblica non fa e non partecipa a questo progetto solo con un forte senso di appartenenza e di sviluppo di energia rinnovabile parte anche dal presupposto che questo progetto deve costruire un sistema che permetta di ottenere delle riduzioni dei costi dell'energia in loco che sia un elemento attrattivo di nuovi investimenti mi permetto di ricordare che per poter fare gli impianti ci vogliono gli impiantisti gli elettricisti coloro i quali fanno gli allacciamenti coloro i quali fanno i conteggi rispetto ai mix quindi i consulenti cioè si genera un'economia di territorio che si deve tenere sul territorio perché la cosa io credo che vada comunque sviluppata pesantemente è che laddove devo fare degli impianti cercherò gli impiantisti sul territorio cioè si genera un'economia che cerca anche di coinvolgere gli interlocutori del territorio ma non da ultimo ve lo garantisco perché l'ho già provato molte imprese piccole medie e anche grandi anche se sottolineo le imprese sopra i 250 addetti e o con un fatturato superiore ai 50 milioni di euro non possono entrare nella comunità energetica ma possono partecipare esternamente nel vendere eventualmente energia alla comunità energetica detto però questo molte imprese anche più piccole stanno guardando con attenzione a dove magari andare a fare l'insediamento produttivo in funzione del fatto che si stia ragionando su una comunità energetica o meno quindi diventa anche un elemento attrattivo per il territorio perché sapere di poter comunque pagare meno l'energia fa piacere a tutti quanti soprattutto di questi tempi io ho provato a fare un attimo un escursus un po' veloce ma poi sono a vostra disposizione anche per laddove ci siano dei quesiti che voi ritenete di voler porre non soltanto la sottoscritta che mi permetto di dire ho un po' di esperienza di qualche anno ma non sono un funzionario del Mase ma abbiamo un rapporto dedicato con il ministero col Mase quindi se c'è da raccogliere delle istanze particolari con grande piacere lo facciamo e poi vi ritorniamo anche molto volentieri le risposte che i funzionari GSE Arera e Mase ci daranno su casi specifici quindi a disposizione su questo grazie onorevole allora io aprirei a delle domande io ne ho una pratica ma prima delle domande chiederei se brevemente è possibile presentare la società Boetos perché l'abbiamo citata ed è un po' dietro 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 davanti al lato soprattutto al lato in questi progetti di aggregazione tra comuni sul nostro territorio che vedono appunto la costituzione di comunità energetiche tra più comuni grazie sindaco io non voglio dare le spalle a nessuno quindi mi metto qui e intanto veramente la ringrazio per avermi invitato per aver invitato la ditta Boetos diciamo a prendere parte a questo incontro così importante come ha detto bene il sindaco noi adesso siamo operativi su tanti comuni di diversi territori nel Vercellese qua soprattutto nel Canavese si diceva sta prendendo tanto questa tematica delle comunità energetiche fortunatamente perché servono diciamo degli amministratori inizialmente pionieri che si lancino in una cosa che prima di fatto non si conosceva prima del 2021 in realtà non era neanche ben normato in Italia poi è arrivato il 199 in attuazione della direttiva europea quindi alla fine ce l'abbiamo fatta noi come ditta tendenzialmente ci occupiamo dell'ambito finanziario quindi per noi è stata diciamo una scommessa iniziare ad investire il nostro tempo sulle comunità energetiche infatti siamo andati quando vedevamo in realtà il mio capo il dottor Chiantia vedeva veramente il potenziale di questo nuovo soggetto di cui ancora si conosceva molto poco ci siamo messi quindi a studiare diciamo quello che ipoteticamente potevano diventare le comunità energetiche siamo partiti dalla soggettività giuridica perché ovviamente quando si deve operare anche con dei soldi bisogna dividersi bisogna prenderli dalle istituzioni bisogna amministrarli bisogna farlo seguendo la legge quindi ovviamente bisogna costituire un soggetto giuridico il limite fondamentale ovviamente era quello della diciamo del fine mutualistico quindi il campo si va a restringere ne sono stati citati alcuni quindi ci sono ad esempio le associazioni vi dico quello che è la mia esperienza per portare diciamo qualcosa in più in questa in questa riunione è stata presa molto adesso l'associazione l'associazione riconosciuta ad esempio adesso nel comune di Villa Arpellice siamo riusciti concludendo anche il primo studio di fattibilità completo che diciamo coinvolge molti aspetti tecnico-economici di cui cerco di farvi un accenno molto rapido siamo riusciti a portare l'atto dal notaio ed avviare la comunità energetica vi dico che tra l'altro adesso ne seguiamo poco meno di 10 siamo sulle 8-9 e circa 30 comuni sono coinvolti all'interno di questo sistema di comunità energetiche ovviamente c'è il limite della cabina primaria però vedo anche diciamo tra gli amministratori soprattutto del canavese perché è complice il fatto che siete più o meno tutti vicini e vi conoscete c'è molta collaborazione grazie al business plan di Villarpellice che abbiamo tra l'altro adesso consegnato a alcune banche perché bisogna iniziare a vedere chi vuole finanziare attualmente abbiamo preso contatti con Intesa San Paolo e con Banca Etica in realtà Banca Etica sarebbe l'entità più indicata dato che tendenzialmente si occupa appunto di finanziare questo tipo di iniziative vogliamo vedere qual è diciamo la proposta che loro vogliono farci però anche aggiungendo un ipotetico tasso di interesse che abbiamo messo tra il 3 e il 5% quindi ci siamo ottenuti abbastanza alti per un'iniziativa di questo tipo comunque c'è un guadagno importante nel senso che oltre ad ammortizzare l'investimento iniziale dei ipotetici pannelli solari però giustamente l'onorevole diceva non bisogna limitarsi a vedere i pannelli solari i pannelli solari è solo la cosa più semplice in questo momento quella più immediata quindi noi lo studio di fattibilità l'abbiamo fatto su quella base ma diciamo si può spaziare su un'ampio diciamo su un'ampia gamma di opzioni però comunque diciamo c'è veramente la possibilità di come dire di ottenere anche una soddisfazione dal punto di vista economico per lo meno noi ci siamo dovuti concentrare su questo come tecnici giustamente si è già detto le comunità energetiche in realtà coinvolgono due altri aspetti molto importanti che sono quelli del sociale e quello dell'ambiente sociale importante a livello proprio fattuale perché poi fondamentalmente io devo cercare di collaborare con il mio vicino di casa con l'amministrazione con l'azienda piccola media impresa che si inserisce all'interno della comunità energetica per cercare di massimizzare diciamo l'autoconsumo e la condivisione quindi cercare di far combaciare la curva del consumo con la curva della produzione cos'altro vi posso aggiungere adesso siamo sulla fase di studi di fattibilità sull'area del canavese quindi stiamo cercando di portare avanti tutti i progetti che abbiamo preso in carico la situazione si è abbastanza complicata nel momento in cui si sono aggregati altri comuni perché hanno visto che c'era diciamo una buona possibilità magari all'inizio non si fidavano tanto oppure semplicemente non conoscevano questa iniziativa però diciamo noi abbiamo anche inserito queste nuove amministrazioni all'interno dello studio di fattibilità e poi tra l'altro appunto come si diceva noi abbiamo dovuto aspettare con i tempi giustamente che arrivasse poi il decreto Mase che ha normato la tariffa incentivante premio secondo la quale ovviamente abbiamo elaborato i nostri studi di fattibilità che poi in realtà sono fondamentalmente dei business plan io diciamo che non voglio rubare troppo tempo quindi sindaco vi restituisco la parola vi ringrazio ancora e eventualmente se poi ci fossero domande vorrò rispondere anche io grazie grazie do la parola all'onorevole Porchietto sottolineo solo questo aspetto noi collaboriamo con loro altri comuni presenti collaborano con loro è una delle società di consulenza qui non siamo per però c'è un aspetto che sottolineo che penso sia importante da condividere tra di noi che credo sia condiviso cioè il fatto che se il più possibile riusciamo a gestirci dei progetti di comunità energetiche in casa in cui l'amministrazione è il centro e siamo come dire meno posso dire usati in qualche modo da gruppi più grandi per la logica con cui facciamo gli amministratori dei piccoli comuni è forse più utile e più efficace ecco ci sono ci sono tanti esempi di questo tipo in tutta Italia la logica che noi cerchiamo di praticare è una logica che si pone dalla parte dei piccoli comuni e naturalmente dei loro cittadini onorevole grazie mi ha dato uno spunto stavo pensando di una cosa vi faccio ancora solo un passaggio anzi scusate mi alzo che così almeno ci vediamo tutti che mi ha ricordato c'è anche un tema lo dico agli amministratori locali la Corte dei Conti quindi è chiaro che non tutte le strutture giuridiche sono adatte alle pubbliche amministrazioni io vi porto l'esperienza un po' in giro per l'Italia io ho visto due strutture avallate vi racconto anche un'esperienza di vita vissuta sulla Toscana voi la conoscerete sicuramente Montevarchi che abbiamo seguito con particolare attenzione perché nasceva su un comune che attorno aveva già delle realtà industriali interessanti importanti medio piccole poi c'erano le grandi come Prada Gucci perché loro sono una zona della Valle dell'Arno molto industrializzata sul mondo della moda che guardava con particolare attenzione le comunità energetiche perché per le imprese aggiungo questo c'è anche il tema del bilancio con basso impatto ambientale quindi i cosiddetti criteri ESG che interessano molto interessano molto perché tante imprese ormai quando devono chiedere dei finanziamenti alle banche ad esse viene richiesto comunque di redigere anche una relazione sull'impatto ambientale che tale impresa ha sul territorio quindi il fatto di appartenere ad una comunità energetica aiuta anche da questo punto di vista quindi in quel caso veniva guardata con particolare attenzione noi avevamo una serie di imprese che facevano parte di questo grande gruppo d'acquisto che erano insediate sul territorio quindi cosa facciamo partiamo immediatamente con la struttura della società consortile a responsabilità limitata che poteva essere anche un soggetto giuridico interessante per le amministrazioni locali perché ne limitava la responsabilità patrimoniale che è quello che per voi è fondamentale corte dei conti toscana nicchiava un po' sulla società consortile a responsabilità limitata a quel punto l'altro strumento oltre all'associazione è la fondazione di partecipazione pubblica perché perché vede comunque come strumento uno strumento in mano all'amministrazione pubblica che non solo diciamo esprime la maggioranza dei soggetti che definiscono il comitato esecutivo ma che poi permette comunque di creare anche dei comitati d'ambito su varie cabine primarie quindi lo dico soltanto perché molto spesso anche le amministrazioni locali vengono presentate società di capitali società di persone io ho visto però in realtà ma voi lo sapete meglio di noi non è che siano molte le forme giuridiche che possono essere utilizzate quando si tratta di amministrazioni locali perché poi altrimenti ma lo sapete meglio di me ve le vedete cassare dalla corte dei conti perché il tema comunque di un governo diretto dello strumento ma soprattutto di una limitazione delle partecipazioni è fondamentale quindi credo che nel momento in cui si lavora con le amministrazioni pubbliche occorra effettivamente come anche lei diceva fare attenzione perché è vero che la norma prevede una forma giuridica libera ma non è proprio così quando abbiamo a che fare con i comuni passerei alle domande le mie due sono semplici e pratiche spero chiare nell'esposizione dell'onorevole ci ha detto che i nuovi impianti beneficiano dell'incentivo del 40% e delle le agevolazioni di altro genere se sono stati realizzati dopo la costituzione della comunità energetica costituzione della comunità energetica che si intende come la costituzione della scatola cioè sono andato dal notaio e ho registrato l'associazione questo è sufficiente l'associazione la fondazione o ci sono altri passaggi e l'altro tema che ha accennato che credo meriti in un territorio come il nostro soprattutto approfondire è il limite della cabina è superabile perché ci si può ci può essere una comunità energetica di comunità energetica cioè un istituto che raccoglie più progetti di cabine differenti allora parto dal tema CER la CER deve essere assolutamente operativa quindi e tra l'altro deve avere comunque uno statuto che sia già adeguato alle ultime modifiche che sono state richieste con i regolamenti di dieci giorni fa praticamente infatti il problema vi faccio un esempio sempre con ci sono alcune CER già operative anche sul Piemonte che hanno dovuto bloccare i propri imprenditori che erano già pronti a fare l'investimento perché hanno dovuto immediatamente con atto notarile modificare lo statuto per adeguarsi alle ultime normative perché poi il GSE chiederà comunque ai soggetti che chiederanno il contributo di far pervenire la documentazione relativa alla CER quindi atto costitutivo statuto con le ultime modifiche pertanto si rischia di andare a fare a far l'istanza convinti di ottenere il contributo e visto che il GSE si prende quantomeno 90 giorni per dare l'ok ma può arrivare fino a 270 giorni uno rischia di fare un business plan convinto di ottenere il contributo fino al 40% e poi scopre che per un cavillo burocratico lo perde quindi io mi permetto di suggerire piuttosto uno aspetta 20 giorni tanto stiamo parlando di 2 miliardi e 2 disponibili sul PNRR cioè non è che proprio li spendiamo in due giorni di aspettare magari i 15 giorni in più o un mese in più ma di essere certi che la CER di riferimento sia una CER perfettamente operativa c'è un tema che pongo perché non vi so ancora dare la soluzione ma ve lo dico perché è un'istanza che abbiamo trasferito al MASE e al GSE se c'è la possibilità per coloro i quali aderiscono ad una CER per poter chiedere il contributo per l'impianto successivamente spostarsi su un'altra CER ve la traduco allora qual è il problema magari io voglio fare un impianto a Vidracco e a Vidracco non c'è ancora una CER non c'è non esiste e neanche nella zona a cui agganciarsi mi aggancio alla CER di Novara sto inventando veramente che crea un comitato d'area un comitato d'ambito sulla cabina primaria su cui insiste il comune di Vidracco su questa cabina primaria su questo diciamo comitato d'ambito della CER di Novara la CER di Novara è già operativa e pertanto l'impresa di Vidracco si presenta l'istanza dicendo io ho aderito alla CER di Novara ok a questo punto io ho titolo di ottenere il contributo per fare l'impianto perché la mia CER è assolutamente operativa dopodiché però io nel frattempo mi attivo faccio l'impianto ci passeranno un po' di mesi e nel frattempo il comune di Vidracco costituisce la propria CER oppure fa un'aggregazione di CER e quindi ha la sua CER operativa non è chiaro se nel momento in cui quel pod di quell'impianto si sposta sulla diciamo CER di pertinenza della cabina primaria si porta dietro comunque la precedente appartenenza ad una CER che gli aveva dato l'opportunità di chiedere il contributo e anche qui non è una cosa di poco conto perché in realtà la norma prevede la possibilità di entrare e di uscire dalle comunità energetiche quindi io giuridicamente posso fare questo posso entrare ed uscire ma io devo avere la certezza di portarmi dietro il beneficio dal giorno in cui io ho presentato l'istanza e questa cosa qua l'altro ieri ho chiamato l'energy manager del ministro e gli ho detto senti un po' che facciamo su sta roba ops non ci abbiamo ancora pensato ma è normale cioè il tema è adesso man mano che andremo avanti verranno fuori dei dubbi e bisognerà in qualche modo accompagnare le interpretazioni per far sì che nessuno che ha titolo di ottenere o la tariffa incentivante o il contributo lo possa perdere quindi su questo è un tema credo che anche voi l'abbiate già immaginato ma c'è questo tema seconda questione cer sovracer mica cer tante cer allora io sono di un'idea le comunità energetiche intesa come soggetto giuridico non devono essere una per ogni comune perché poi va gestita la comunità energetica cioè non è una passeggiata mi permetto di sottolinearlo e credo che anche voi conveniate su questo quindi io ritengo che sia importante distinguere quello che è la comunità energetica come soggetto giuridico dalla cabina primaria su cui si fanno i conteggi di equilibrio la dico basica è proprio tra produzione e consumo perché in realtà sotto la stessa comunità energetica possono convergere n cabine primarie ma ricordiamoci che poi la definizione di equilibrio tra produzione e consumo si fa sulla produzione e consumo della cabina primaria ora non è il caso probabilmente di molti dei vostri comuni ma sui grandi comuni della prima cintura torinese che non hanno il contributo del 40% perché non sono comuni piccoli ma sono comuni su cui la tariffa incentivante farà la differenza magari hanno 3-4 cabine primarie e le 3-4 cabine primarie le condividono con i comuni circostanti il pinerolese Paolo quando eravamo a porte l'altra settimana ragionavamo su quello allora è chiaro che un conto è avere la chair in vento del pinerolese un conto è andare a verificare che su ogni cabina primaria ci sia la capacità di equilibrare produzione e consumo quindi spero di rispondere alla domanda che mi facevi voi potete avere una chair ma poi dovete gestire le più cabine primarie che ci sono sui vari comuni che sono sottostanti se ci sono domande alzate la mano la gentilissima vice sindaco vi porta il microfono giustamente ce n'è una in fondo buonasera sono Uria della Solerà siamo una società che installa ormai da 20 anni quindi abbiamo visto abbastanza esperienza sul fotovoltaico grazie per questo incontro perché è un incontro molto importante e state entrando veramente nel merito quindi avete già risposto a molte domande alcuni dubbi allora sul discorso che faceva prima sulle comunità energetiche non possono prendere il contributo se non sono entrati in esercizio dopo la costituzione cioè gli impianti non possono prendere il contributo ma il 40% o anche l'incentivo solo del 40% stavo parlando del 40% perché quando presenti la domanda sul portale quando presenterai perché non è ancora aperto sul portale verrà proprio richiesto la la CER di appartenenza e il GSE ha già comunicato che chiederà tutta la documentazione relativa alla CER per verificare che nel momento in cui si fa l'istanza la CER sia operativa nel senso che abbia già concluso l'iter procedurale e che si sia adeguata alla normativa per poter entrare in esercizio gli impianti che faranno che aderiranno a quella CER quindi potranno accedere alla tariffa incentivante certo potranno accedere alla tariffa incentivante ma anche se sono entrati in esercizio prima della costituzione ma dopo il dicembre del 21 no devono essere all'inter no anche la tariffa incentivante ok è chiaro questo perché su questo avevamo ancora un dubbio invece da operatori ci sembra che si possano creare delle distorsioni nel senso capiamo il senso delle amministrazioni che sono una garanzia nella gestione della CER però vediamo che le amministrazioni rischiano di avere le mani molto legate rispetto alla costituzione quindi come operatori e qua ci sono molti colleghi altre società che installano saremo tentati di costituire di fare gruppo e quindi ci troveremo sulla stessa cabina magari ad avere tante comunità energetiche però che sono sconnesse e quindi che non hanno il vantaggio di beneficiare soprattutto su un territorio con pochi numeri come il nostro che non hanno il vantaggio di godere dell'autoconsumo e quindi ci sarà una corsa comunque forse solo all'ottenimento del 40% e non il vantaggio del mettere in rete l'aspetto sociale e tutto quello che portavate come si potrà ovviare a questo? Buonasera Ministro Eccomi 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 perfetto ci sono ciao Sindaco alle persone che ho davanti che non sarà presente in presenza purtroppo non sarà presente in presenza ma sarà presente comunque attraverso collegamento telefono certo 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 e se mi posso permettere avremo un'altra occasione di averla certamente devo recuperare certamente devo recuperare e poi farmi perdonare ditemi quando posso partire da questo momento le illustro solo brevissimamente nella nostra sala consigliare ci sono molti amministratori e imprese del territorio sia il consigliere Paolo Ruzzola che l'onorevole Porchetto hanno fatto una abbiamo cercato di rappresentarla indegnamente Ministro ci abbiamo provato bene bene sono convinto e quindi si entrava nel merito delle domande poi anche più più tecniche ma le lasciamo la parola naturalmente grazie di essere con noi certo io vi chiedo scusa il tutto era predisposto perché arrivassi in tempo ma la convocazione a Palazzo Chigi a cabine di regia in molti che doveva essere un'operazione da un'ora invece è finita oggi alle 15.30 di conseguenza ho perso due eri di fila che in prenotazione e ho appena toccato terra in questo momento quindi naturalmente mantengo il coupon mantenete il coupon di diritto che vengo sicuramente a trovarvi ma altrettanto vi dico che Paolo e Claudia mi hanno molto ben rappresentato anzi sono molto preparati e sono molto vicini anche al territorio cosa dirvi il tema delle comunità energetiche che è uno dei temi più importanti che abbiamo in questo momento di interventi verso la decarbonizzazione è una sfida se vogliamo una sfida nazionale è una sfida anche da parte dell'Unione Europea perché è una una novità giuridica quella dell'organizzazione delle comunità energetiche sono una grande operazione dove vogliamo dire benefici individuali quindi che aderisce a un risparmio grazie alle compensazioni economiche con lo scambio di energie e gli incentivi statali i cittadini quindi diventano in questo caso produttori e consumatori unendosi fra loro cittadini in utenze domestiche anche con imprese con piccole medie imprese dove peraltro il concetto di PMI europeo è molto vasto e quindi ha una caratteristica che prende almeno il 98% del nostro sistema delle imprese c'è quindi una condizione di vantaggio ma c'è proprio una condizione di fare un salto culturale diventando davvero produttore consumatore diventando quindi gestore di se stessi e quindi con l'obiettivo naturalmente anche economico di avere le bollette ridotte dopo quello che il brutto periodo del gas a 340 euro al megawatt ora questo credo che è un qualcosa che ha preso un significato molto particolare quindi le CER io credo non sono e non saranno solo un vantaggio per il territorio ma saranno una risorsa a questo punto per l'intero paese quella realizzata la CER quindi un'azione verso la riduzione dell'emissione del gas serra nell'aggiungere un po' di gigawatt alla produzione delle rinnovabili nazionali noi abbiamo l'obiettivo al 2030 di superare i 70 gigawatt di rinnovabili per ribaltare quello che è il rapporto attuale perché il contributo che possiamo dare noi alla decarbonizzazione quindi all'ambiente è quello di ribaltare al 2030 cominciare a ribaltare al 2030 il rapporto attuale che abbiamo tra l'utilizzo dei fossili che sono carbone petrolio e naturalmente gas e le rinnovabili in questo momento se prendiamo solo il settore elettrico il settore dell'energia elettrica abbiamo due terzi che proviene dal fossile e un terzo dei rinnovabili e l'obiettivo che ho io come governo e che ho portato nel piano nazionale è quello di abbandonare il carbone nella parte continentale del paese nel 2025 fino al 2025 qualcosa rimane in Sardegna per almeno un paio di anni in più ma non oltre e nel contempo far scendere con obiettivo 2050 il gas che viaggia ancora sui 65-70 miliardi di metri come l'anno mantenendo il gas come veicolo di transizione perché è un fossile ma è il fossile meno inquinante meno dannoso con questo però noi dobbiamo aggiungere i 70 gigawatt di rinnovabili e le CER sono un contributo ecco non sono una soluzione sono un contributo ma un contributo che è importante la caratteristica credo che ve l'abbiano indicata ma Paolo e Claudia conoscono bene la parte normativa è una grande opportunità per la realtà sotto i 5 mila abitanti perché in questo caso c'è un contributo cospicuo nel contributo fino al 40% praticamente a fondo perduto e il resto naturalmente è un contributo a tariffa che è agevolato l'investimento a livello nazionale è 5 miliardi e 700 milioni e quindi una cifra notevolissima e se pensiamo che il Piemonte ad esempio ha più di mille comuni sotto i 5 mila abitanti naturalmente voi il territorio di Vidracco è uno di quei territori che può beneficiarne molto ma può beneficiare con le opportunità vi ricordo che avevate la cava e me l'avate rappresentata anche che può essere un luogo diciamo utilizzabile importante e naturalmente anche quelle che sono l'impostazione di organizzazione sociale che avete posto che che vi avvantaggia già nell'avere il concetto di comunità quindi siamo con una una triplice opportunità è un'opportunità è un'opportunità economica è un è un obiettivo ambientale e naturalmente è un beneficio sociale ecco questa questa triplice dimensione io la voglio rimarcare e quindi perché perché è importante perché è la sostanza la finalità politica che noi abbiamo e che noi ci diamo quindi incarnare un concetto direi fondamentale tutti parlano oggi sostenibilità ma la sostenibilità si raggiunge con l'equilibrio tra le varie dimensioni l'equilibrio tra le varie dimensioni in questo caso le tre dimensioni l'obiettivo ambientale quello economico e quello sociale questa è l'azione del governo di cui mi onoro di rappresentare in questo messaggio e come ministro e anche come vostro rappresentante questo non lo dimentico e naturalmente potrei andare avanti un'ora penso che chi mi conosce tipo Claudia comincerà già a sorridere perché la tiro troppo lunga e allora e allora smetto ma chiedendovi ancora scusa e salutandovi tutti signor ministro c'è lo spazio per qualche domanda eravamo entrati un po' nel vivo certo allora però chiederei la persona che stava facendo la domanda adesso di venire qua usare il mio telefono e il microfono insieme usare queste scamotage se vieni dietro al tavolo ti vedono allora stava parlando il rappresentante di una società di impianti fotovoltaici buonasera grazie per la disponibilità buonasera allora un'altra domanda che avevamo noi stiamo entrando un po' nel merito allora di sicuro un merito che stanno avendo le comunità energetiche che stanno mettendo in relazione tante persone stiamo parlando anche noi con altri nostri competitor sul territorio e questo è un aspetto positivo stiamo parlando con le amministrazioni stiamo parlando con professionisti tutti stiamo crescendo perché o si cresce o qua non si va avanti perché è di sicuro un investimento complesso quello delle comunità energetiche tra le domande le prime domande che ci vengono sono quelle che di sicuro le pubbliche amministrazioni sono una garanzia nel realizzare le comunità energetiche però ci sembra che abbiano le mani un po' più legate dei privati e quindi quello che si potrebbe delinearsi è il fatto che si creino tante comunità energetiche sotto una sola cabina per avere la velocità e l'agilità di accedere al contributo del 40% che è comunque allettante è un contributo che c'è subito aiuta finanziariamente a realizzare degli impianti e nella concretezza ci porta a bruciare una tappa quindi su questo come andrà un po' in conflitto con l'autoconsumo di una cabina perché se ci sono tre o quattro comunità energetiche l'autoconsumo aumenta se ce ne sono 50-60 un po' non so se il senso è chiaro sì lei fa riferimento al fatto di andare a saturazione perché altrimenti no certamente più ne nascono più aumenta l'autoconsumo anche perché poi il meccanismo mutualistico è tale da favorire l'autoconsumo qualcuno io permettetemi qualcuno mi dice ma c'è una riduzione adesso è un discorso difficile da fare per i non addetti ai lavori ma c'è anche una modifica dell'algoritmo rispetto al fatto che si autoconsumi di più o meno è chiaro che è per favore l'autoconsumo ve lo do con un esempio la direzione concorrenza dell'Unione Europea la commissaria concorrenza Vestaglia nella verifica a un certo punto ha posto un problema ed effettivamente ha posto un problema perché se lei è un tecnico avrà visto probabilmente la bozza originaria del mio decreto ha detto in modo banale e pulito dicendo ma se facciamo una cer dieci famiglie e un'impresa e poi le dieci famiglie si ritirano e l'impresa prende tutto da lì abbiamo aggiunto la clausola della mutualità poi chiaramente è un l'ho detto prima è un grande esperimento non credo all'ingorgo tutto su una cabina primaria penso che sarà tutto un po' diffuso poi c'è anche una questione che scontiamo e purtroppo non è positiva e negativa il fatto che ci sono aree di cabine primarie grandi e altre che sono piccole oppure ci sono situazioni di comuni metà e metà quindi naturalmente dobbiamo fare i conti con quella che è la realtà della nostra rete perché la rete è quella che è sia la rete di Terno sia la rete di Terno non so se vi sono spiegato sì passo ad altre domande così magari qui abbiamo sia amministratori sia tecnici questa domanda gliela rivolge Edoardo Petrarulo della società Boetos che sono i consulenti di diversi comuni nella fase costitutiva diciamo più amministrativa economica legale delle comunità energetiche devi parlare sia nel telefono sì complicato ma posso farcela buonasera ministro intanto colgo l'occasione perché mi ha presentato già il sindaco faccio anche già un'altra premessa io sto facendo la tesi di laurea sulle comunità energetiche quindi le ho già mandato un'intervista lei ha già risposto ho già provveduto a metterla all'interno della tesi e quindi la ringrazio colgo l'occasione io dico a tutti che lunedì mattina da giornate lunedì a Torino al circo dei lettori presentiamo le CER tra l'altro vabbè io passo per il saluto ma ci avrò i tecnici sia del ministero che del GSE anche per chiarire in alcuni casi una serie di questioni tecniche questo ecco lo do come annuncio dica 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 grazie e io faccio una domanda a cui lei ha già risposto a me che ho messo nella tesi ma secondo me è molto utile per vedere le CER diciamo in prospettiva perché tanti sindaci e amministratori mi dicono sì ma qual è il futuro di questa iniziativa allora le chiedo come vede lei le comunità energetiche nel futuro qual è il loro sviluppo e la loro utilità all'interno del nostro tessuto economico grazie allora ma io guardate io credo che a dirci c'è un obiettivo che abbiamo ed è una valutazione una stima di uno studio naturalmente che prevede di avere a livello europeo 250 milioni di produttori di energia in questo caso al 2050 vorrei però dire questo le previsioni che ho io in questo momento sono di arrivare a 3 milioni di produttori in Italia al 2030 qualcuno dice ma è tanto guardate che stiamo facendo pur con tutti i ritardi che ci sono dovuti alla rete dovuti a tanti motivi e ci sono mille allacciamenti al giorno quindi è quella che è una rivoluzione come quella che come il passaggio dal vapore al motore stiamo avendo un cambiamento di pelle che incide sul cambiamento delle abitudini anche quindi ecco qual è la sfida la sfida è creare un livello di cultura diverso secondo ricordiamoci che c'è un fatto territoriale anche già che ho la parola poi mi sovvengono le cose in testa il fatto territoriale è quello di permettere alle realtà più esterne in un momento dove ancora abbastanza accentuata la fase di urbanizzazione verso i grandi centri è tentare una parificazione tra le realtà più disagiate perché sono montane sono di campagna sono più lontane hanno meno servizi dare loro una condizione di competitività almeno economica ecco a compensare il disagio dei servizi cioè i motivi di le tante valenze che può avere questo modello che è come dico un'annovazione sotto l'aspetto giuridico e che dobbiamo anche collaudare anzi da quelli che ci studiano sopra come lei e dei tanti tecnici che ci lavorano sopra ci sarà il contributo per il futuro per dire per dire onestamente funziona bene così o vediamo come potrebbe essere funzionare in modo diverso però è una sfida che effettivamente noi non abbiamo mai preso in considerazione forse ci porta alle centraline idroenetriche di 60 70 anni fa nei piccolissimi centri forse in quel caso c'erano i gruppi familiari più agiati che riuscivano a farsi la centralina però è una cosa molto lontana Allora un'altra domanda da parte dell'assessore sparaggio del mio comune che è l'assessore all'edilizia privata Buonasera Ministro ricordo che noi montanari siamo un po' diffidenti quando ci sono le cose nuove soprattutto se facciamo investimenti che poi rischiamo di perdere perché nel caso delle cere potrebbero entrare i grandi gruppi della distribuzione energetica o direttamente o se non è possibile sottomentite spoglie di loro rappresentanti dunque esiste secondo lei questo pericolo e una domanda la faccio anche all'onorevole perché è bello partire dal piccolo credo che siamo tutti d'accordo però poi se entrano i pesci grossi ci fregano Allora è il motivo del megawatt per capirci sapete quanta gente mi dice ma perché solo fino a un megawatt e il perché solo fino a un megawatt è perché fino a un megawatt non si creano gli interessi dei grandi gruppi fino a un megawatt perché fino a un megawatt secondo la combinazione della mutualità qualora non vi sia un autoconsumo diffuso terzo bisogna anche stare molto attenti e allora e qui ripeto ciò che ogni tanto i miei dell'ufficio stampa e la mia comunicazione mi dicono che non devo dirlo così ma io lo dico lo stesso stiamo molto attenti che non ci capiti come i macellai che con il 110% da un giorno all'altro sono diventati costruttori e stiamo molto attenti di evitare l'offerta di quello che arriva in comune o il gruppo delle famiglie e dice vi do l'impianto fatto vi do un gran business di energie con una riduzione del x% e vi taglio l'erba del giardino e vi ignacio i fiori due volte all'anno ecco fatevi fare tanti preventivi e possibilmente da ditte serio ecco cosa vuol dire ottimo consiglio una domanda del sindaco di Rivara buonasera ministro una cosa di questo genere noi le comunità energetiche tutto bene tutto bene però si punta molto sul fotovoltaico fotovoltaico vuol dire durante il giorno le amministrazioni comunali hanno delle grossi spese la notte con l'illuminazione pubblica questo vorrebbe dire compensare anche altri metodi diciamo di produzione perché visto che dobbiamo fare consumare e produrre e consumare istantaneamente nell'ampito dell'ora per fare chiudere il circuito il discorso dell'idroelettrico che parlava prima lei ha già accennato e il discorso anche di biomassa e altri metodi diciamo di produzione energia però abbiamo tanti 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 vincoli su queste produzioni ci sarà la possibilità a livello ministeriale di cercare di semplificare il discorso produzione idroelettrica anche piccoli impianti allora io ho capito allora allora qui il discorso sarebbe lungo credo che la mia sfida personale è quella della semplificazione e della sburocratizzazione se pensate che ho procedure nazionali che durano tre anni ed è la sfida è creare delle condizioni che diano anche degli automatismi e gli automatismi possono venire dalla dalla certezza di dove puoi insegnarti senza troppe procedure burocratiche noi faremo in questo momento se le regioni me lo licenziano io ho diciamo una proposta di aree edone che le regioni però a sua volta poi devono adottarsi perché comunque la Repubblica Italiana ha una costituzione e ci sono dei poteri ripartiti e le aree edone possono essere un primo stimolo secondo stiamo lavorando a delle norme semplificatorie per arrivare a modelli di di automatismo di autorizzazione unica o di addirittura modello scia là dove si lavori sulle aree edone e si riguarda piccoli piatti facendo un sindaco e molti di voi facendo di amministratore credo che si rendano ben conto che non non basterà un singolo provvedimento ma la sfida è quella io sono convinto dall'altra parte riteniamo che è vero che si parla sul fotovoltaico perché forse sono tanti ad offrirlo tanto è il più facile da installare su alcuni territori nazionali si può anche parlare di mineolico da noi chiaramente non ci sta il mineolico nella zona toscana si parla di geotermico sulle biomasse la partita diventa già di altre dimensioni anche perché non si parla già più di CER sulle biomasse perché un impianto biomasse deve essere superiore al megawatt capito che è la storia di questo allora non mi pare ci siano altre domande ma se venite qua veloci no allora signor ministro la ringraziamo moltissimo del suo tempo voglio ricordare che solo oltre alle persone in sala c'è anche un collegamento grazie a Obiettivo News che è un emittente locale e ci sono molti collegamenti e poi la serata rimane registrata teniamo buono il bonus per un ritorno in presenza certamente buona serata a tutti a loro arrivederci arrivederci grazie allora per le conclusioni mi rivolgerei all'onorevole Porchietto che ha ben illustrato e ci ha messo nel gusto una domanda tardiva aspetti che le portino il microfono mi ha colpito quell'espressione occhio alla saturazione delle cabine primarie in primo luogo bisogna sapere dove si può informare su quella saturazione in secondo luogo è un ambiente dinamico ci sono ditte che chiudono altre che aprono quando uno fa una programmazione in un ambiente dinamico si gratta la pera perché non sa da che parte cominciare vorrei sapere se c'è qualche spunto c'è un sito adesso ho un attimo un vuoto di memoria ma ve lo dico perché c'è proprio il sito preposto di Enel che dà la mappatura delle cabine primarie e le indica col colore verde giallo arancione rosso è chiaro che quelle rosse sono un po' delicate pertanto si può verificare l'indice di saturazione di una cabina ma poi siccome non credo correggetemi se sbaglio che saranno tutti saranno tra virgolette affiancati comunque da dei professionisti che studieranno l'impianto il progetto eccetera loro sanno benissimo a chi rivolgere l'istanza per verificare la fattibilità dell'allacciamento cosa fondamentale è partire da quello cioè ancora prima di ragionare sul progetto e verificare immediatamente la tempistica per allacciare l'impianto questo si può fare tranquillamente e rivolgere subito la richiesta dopodiché come le dicevo tra l'altro ne parleremo a brevissimo col ministro gliel'abbiamo già fatto presente ma l'abbiamo già fatto presente agli uffici del ministero è giovedì mattina che è il 21 marzo se non abbiamo una riunione proprio su questo tema qua perché come vi ho anticipato nel giro di poche settimane dovrebbe o con decreto ministeriale o con il primo veicolo che ci sarà parlamentare promuovere questa modifica normativa per prevedere delle tempistiche per far partire gli impianti che da tempo le cui autorizzazioni giacciono da tempo e che quindi saturano le cabine perché in taluni posti io ve lo dico con onestà non ho pensato di guardare prima di venire qui da voi le cabine primarie della zona se fossero meno sature io non so se voi per caso l'avete già fatta questa verifica ok no comunque io ve lo ma ve lo dico lo faccio lo giro al al sindaco ve lo faccio sapere di come fare la mappatura e di come andare guardate adesso è un sito Enel non me lo ricordo più ma ve lo dico e lo vediamo un attimo ve lo mando perché a quel punto lì riuscite a vedere immediatamente qual è il grado di saturazione della cabina che è come mi dicevo virtuale in questo momento quindi molto velocemente questa operazione va fatta l'abbiamo già segnalato perché alcune delle cabine in particolare dei grandi dei grandi plessi industriali dove ci sono soprattutto sulla area più prossima a Torino hanno veramente dei seri problemi in altri punti non ci sono problemi però questo va verificato preoccupa anche la situazione economica generale perché non può prevedere quello che succederà tra sei mesi eccetera quindi cioè la causazione è proprio l'incertezza ma perdoni ma l'incertezza ma su che cosa sul fatto di trovare o meno disponibilità o sul consumo qualora lei faccia l'impianto se sono state già fatte domande sono riportate anche le domande in sospeso non è che sono riportate le domande ma è prenotata diciamo così l'allacciamento e pertanto la potenza massima che verrebbe allacciata quindi sulla cabina in realtà tu hai una saturazione in funzione delle richieste di allacciamento che sono già diciamo protocollate e quindi quello è abbastanza facile saperlo e infatti mi permetto il mio piccolo suggerimento è quello che nel momento in cui perché quello che diceva il ministro correttamente occhio perché molto spesso hai che non sono sicuramente quelli presenti e però a me è capitato personalmente dall'altra parte della provincia che mi è stato presentato da parte di un imprenditore chiedendomi se davo un'occhiata a un business plan fatto con quattro numeri dove tra l'altro c'erano delle proiezioni di tariffa che ma neanche quando abbiamo avuto il problema con l'Ucraina c'era quel prezzo dell'energia è chiaro che se tu fai un business plan con una tariffa che è fuori da quella che sono le ordinarie tariffe di certo rientrava dell'investimento nell'impianto in tre anni cioè è una bufala perché non è vero non rientri in tre anni dell'investimento pur comunque col contributo fino al 40% quindi ci sono tanti professionisti seri io credo che come diceva giustamente il ministro così come abbiamo visto davvero con tutto il rispetto i macellai che facevano gli impresari edili per prendere il 110 bisogna fare attenzione da chi ci si fa accompagnare detto però questo è un'opportunità importante e io credo che soprattutto sui comuni sotto i 5.000 abitanti sia veramente un modello che può aiutare anche a generare un sistema economico virtuoso quello sicuramente io ribadisco la massima disponibilità l'ho detto al sindaco io e Paolo Ruzzola siamo a vostra disposizione anche nell'interlocuzione col ministero quindi sappiatelo che c'è la nostra massima disponibilità io non sono il ministro vi chiedo scusa mi sono ritrovata a fare indegnamente a questo punto le veci spero che quantomeno sia stato utile quello che vi ho riportato e a disposizione per ulteriori informazioni in merito allora ringrazio ringrazio tutti voi per la presenza abbiamo organizzato per chi può fermarsi ancora per bere un bicchiere un piccolissimo rinfresco oppure se dovete andare ci salutiamo così grazie ancora ringrazio 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 ringrazio